I parametri di ripresa sulle nostre camere, l'esposizione. Oggi, in una sorta di back to basics, vediamo quali sono alcuni parametri da configurare sulle nostre fotocamere o macchine da ripresa per girare video. Parametri o settaggi che determinano come le immagini vengono acquisite e come appaiono quando riprodotte. Dimentichiamoci gli automatismi, le impostazioni automatiche impostabili sulle camere, perché se vogliamo essere padroni di quel che poi visualizzeremo anche e soprattutto da un punto di vista creativo, la parola d'ordine è impostazione manuale. Questo video nasce dall'osservare diversi commenti che ho ricevuto a video pubblicati o a domande dirette che mi hanno motivato a spiegare alcuni concetti basilari che potranno essere utili soprattutto per chi si avvicina a questo mondo. Esposizione. Attraverso le impostazioni della camera possiamo regolare l'esposizione. Cos'è l'esposizione? Indica la quantità totale di luce che passa attraverso l'obiettivo e viene catturata dal sensore o dalla pellicola e la sua misurazione ci serve per poter avere un'immagine correttamente esposta, cioè in cui le parti del fotogramma siano correttamente visibili. L'esposizione si misura in EV, valore di esposizione, e la formula è esposizione uguale intensità luminosa per tempo, che sta ad indicare la relazione tra le impostazioni del diaframma, che regola l'intensità luminosa, e il tempo di esposizione o tempo di posa o anche velocità dell'otturazione, cioè il tempo durante il quale l'otturatore della camera rimane aperto per permettere alla luce di raggiungere il sensore o la pellicola. Un'immagine in linea di massima dovrebbe essere esposta correttamente, a meno che non si ricerchino effetti o mood particolari. In casi come questi possiamo avere deliberatamente un'immagine che sia sovraesposta quando si eccedono i valori ottimali e le aree di alte luci. Quelle più chiare sono, come si dice, bruciate, cioè prive di informazioni. Oppure, al contrario, possiamo avere un'immagine sottoesposta, cioè scura, con zone in ombra non distinguibili, come si dice con ombre chiuse o neri chiusi o tagliati. Con quali strumenti la nostra camera può intervenire sull'esposizione? Vediamole un po' in dettaglio e se parlo oltre che di sensori digitali anche di pellicole è perché certe terminologie derivano dal mondo analogico della pellicola e poi anche perché la pellicola è tuttora utilizzata, anche se marginalmente. Indice di esposizione. L'indice di esposizione AI si riferisce alla valutazione della velocità assegnata a un particolare film e alla situazione di ripresa in contrasto con la velocità effettiva del film. Facciamo un passo indietro nel tempo per spiegare certe terminologie. La velocità della pellicola, detta anche sensibilità o rapidità, indica la sensibilità alla luce di una pellicola fotografica o del sensore in una fotocamera digitale. Quando scattiamo con una pellicola a bassa sensibilità a parità di condizioni abbiamo bisogno di un tempo di esposizione maggiore e si parla perciò di pellicola lenta. Al contrario, una pellicola ad alta sensibilità che richiede tempi di esposizione più brevi si dice pellicola veloce. L'indice di esposizione si riferisce a diverse unità di misurazione adottate come ASA per le pellicole, GAIN per videocamere o ISO per le fotocamere. Quindi più è basso il valore, per esempio il valore ISO, e meno sensibile il sensore o la pellicola saranno alla luce. Alzandolo il sensore sarà più sensibile alla luce e si tradurrà in un'immagine più luminosa rispetto ai valori impostati più bassi. Questo vuol dire che possiamo alzare la sensibilità, i valori ISO o utilizzare pellicole da 1600 ASA anziché da 50 o 100 per avere immagini esposte correttamente anche con poca luce senza differenze? Ovviamente no. Tutto si paga. Le pellicole più lente come 50 o 100 ASA hanno una grana molto più fine e le immagini risultano più pulite e dettagliate. Al contrario pellicole veloci come 1600 o 3200 ASA sono sì molto sensibili, ma hanno una grana molto più grande e visibile. Nel mondo digitale le camere hanno dei valori isottimali, detti isobase o isonativi, ai quali il sensore lavora al meglio, restituendo un'immagine migliore, con la migliore gamma dinamica e bassi valori di rumore. Molte camere professionali come le Arri Alexa partono con valori di 800 ISO. Alcune camere hanno il dual gain ISO. Per esempio la Sony A7S3, anche se non dichiarata da Sony mi pare, ha una doppia sensibilità isonativa, che significa che la fotocamera ha due impostazioni ottimali, quelle a cui offre le migliori prestazioni in termini di rapporto segnale-rumore e di gamma dinamica. Quando si alzano gli ISO oltre il valore nativo base, si amplifica il segnale, ma insieme ad esso anche il rumore, fino a quando non raggiungiamo il valore isonativo più alto, in cui non occorre l'amplificazione prepotente del segnale e quindi quasi miracolosamente l'immagine risulterà pulita. In questi casi conviene lavorare sempre ai valori isonativi per avere un'immagine pulita. Quindi se per esempio l'ISO base è a 640 ISO e l'ISO base più alto è a 12800 ISO, se la lettura esposimetrica ci dice di utilizzare per i parametri impostati un valore ISO di 6400 ISO, per avere un'immagine più pulita conviene impostare un valore ISO di 12800 ISO e utilizzare per far entrare meno luce un filtro ND o chiudere il diaframma se la scelta creativa ce lo permette. Ovviamente nel caso della pellicola una volta caricata non possiamo variare la sensibilità. Al limite si può svilupparla con la tecnica del push and pull a valori diversi, ma una pratica più fotografica che filmica. Quella del push pull è una tecnica che consente di utilizzare una velocità ISO diversa da quella per cui è classificata la pellicola. Si lavora come se la sensibilità fosse diversa e si adotta uno sviluppo particolare della pellicola in laboratorio. Otturatore, shutter angle o shutter speed. L'otturatore o shutter è un dispositivo meccanico o elettronico che consente alla luce di passare per un determinato periodo di tempo esponendo alla luce una pellicola fotografica o un sensore digitale per catturare un'immagine. Lo shutter speed. Lo shutter speed in fotografia è il tempo che viene misurato quando l'otturatore della fotocamera è aperto. La velocità dell'otturatore nella fotografia digitale è il tempo che viene misurato dal sensore della fotocamera per vedere la scena che viene ripresa. È quello comunemente utilizzato sulle fotocamere ed espresso in frazioni dove ogni valore è la metà del precedente. Un secondo, mezzo secondo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo e via dicendo. Lo shutter angle. Il termine shutter angle viene utilizzato per descrivere la velocità dell'otturatore relativa alla frequenza dei fotogrammi. L'angolo dell'otturatore viene generalmente utilizzato per otturatori rotanti in cui un disco contenente l'apertura angolata ruota e lascia entrare la luce una volta per giro per esporre ogni fotogramma. La velocità dell'otturatore è inferiore quando l'angolo è maggiore. Il limite è fino a 360 gradi che è il punto in cui la velocità dell'otturatore diventa lenta come il frame rate. Riducendo l'angolo avremo una velocità dell'otturatore più veloce. Lo shutter angle viene comunemente utilizzato nelle cinema camera. Che differenza c'è fra shutter speed e shutter angle? La differenza principale fra i due è il modo in cui vengono misurati entrambi. Lo shutter speed viene misurata in frazioni di secondo. Lo shutter angle misura la velocità con cui si muove l'otturatore. Tempi di posa lunghi consentono più luce ma se il soggetto è in movimento l'immagine viene prodotta con una sfogatura da movimento. Velocità dell'otturatore più elevata consentono meno luce ma riescono meglio a congelare il movimento. Lo shutter angle è misurato in gradi. Quando si misura l'angolo dell'otturatore si misura la parte del disco rotante che espone la pellicola alla luce. Un angolo dell'otturatore è considerato normale se è di 180 gradi. Con questa angolazione la velocità dell'otturatore è la metà della frequenza dei fotogrammi. Per un film girato a 24 fps l'angolo dell'otturatore standard è di 180 gradi. Apertura di diaframma. Il diaframma è un meccanismo che serve per regolare la quantità della luce che attraversa un obiettivo, un po' come l'iride dell'occhio umano. Si presenta come un insieme di lamelle a ventaglio che aprono o chiudono l'apertura del sistema ottico fino alla sezione minima. La forma e la quantità delle lamelle dovrebbe rendere la figura del foro quanto più rotonda e circolare possibile. Infatti gli obiettivi più costosi sono ottimizzati anche da questo punto di vista e la resa si vede soprattutto nello sfocato. Per variare il diaframma sulle vecchie ottiche fotografiche si ruotava una ghiera e così è possibile anche su obiettivi moderni dedicati al mondo cine o che almeno vi strizzano l'occhio. Nelle moderne fotocamere è possibile variare il diaframma tramite ghiere perché molti obiettivi prettamente fotografici moderni non hanno le ghiere sul barilotto dell'obiettivo. Si misurano in t-stop o f-stop. Sulle lenti cinema avremo valore in t-stop mentre sulle lenti fotografiche in f-stop. Più i numeri sono bassi più il diaframma sarà aperto per esempio f1.4 o f1.8 e quindi più luce entrerà e più luminosa sarà l'immagine rispetto a un diaframma più chiuso con valori numerici quindi più alti come f11 o f16. La misurazione in t-stop è sicuramente da preferire nel mondo cine video professionale. ISO, apertura e velocità dell'otturatore sono i tre parametri che formano il triangolo dell'esposizione. Variando questi tre parametri possiamo ottenere l'esposizione che vogliamo. In termini prettamente esposimetrici a parità di condizioni di luce si ottiene la stessa esposizione se aumento un termine e ne diminuisco un altro dello stesso fattore. Per esempio un cinquantesimo f8 sarà equivalente a un centesimo f5.6 dove ho dimezzato il tempo e aumentato di uno stop l'apertura del diaframma per compensare la perdita di luce dovuta al fatto che l'otturatore è stato aperto per la metà del tempo rispetto all'esposizione precedente. Varierà naturalmente l'effetto. Ora quando si fa una foto i tre valori a meno che non si ricerchi un particolare effetto per esempio uno sfogato in un ritratto quindi grandi aperture di diaframma oppure molta profondità di campo in una foto paesaggistica e quindi diaframmi piuttosto chiusi possono essere variati con buona libertà. Nella ripresa video invece alcuni parametri sono abbastanza fissi. L'iso impostato è solitamente quello nativo che permette le migliori performance del sensore. La velocità dell'otturatore è impostata solitamente a 180 gradi ovvero un cinquantesimo di secondo per restituire una sensazione del movimento alla quale il nostro occhio è abituato e che riconosce come cinematografica. La scelta dell'apertura del diaframma compete sul set al direttore della fotografia e al regista e si basa su quanta profondità di campo si vuole ottenere ovvero quanto deve essere a fuoco e quanto deve essere sfocato. Ok direte ma allora se i valori iso e velocità dell'otturatore sono fissi e l'apertura del diaframma viene dettata da regole estetiche come faccio a ottenere una giusta esposizione? Si controlla la luce. Sul set attraverso la regolazione delle intensità delle luci presenti e intervenendo sulla camera mettendo di fronte alla lente i filtri ND ovvero neutral density. Sono filtri per lo più all'astra di varie intensità che tagliano la luce che entra nell'obiettivo di valori prefissati. Praticamente riducono l'intensità della luce in maniera uniforme su tutte le lunghezze d'onda. Ovviamente devono essere di ottima qualità per non introdurre color shift o degradare l'immagine. Queste sigle identificano quanti stop di riduzione della luce comportano. Alcune camere hanno i filtri ND integrati altri devono montarle davanti alle lenti dell'obiettivo tramite i sistemi portafiltri dei matte box. Ci sono poi anche i filtri ND circolari che si abituano sulla filettatura frontale degli obiettivi. La misurazione dell'esposizione. La misurazione dell'esposizione può essere fatta con varie modalità esposimetrie. Misura della nostra fotocamera in modalità luce riflessa in un punto centrale spot o in un'area centrale pesata centrale dell'immagine. Oppure modalità che misurano una matrice di più punti più o meno ampia. La misurazione per ottenere l'esposizione ottimale andrebbe fatta su un cartoncino grigio che riflette il 18% della luce nello spettro della luce visibile. Il 18% viene utilizzato perché la scala di percezione della luce è logaritmica da cui anche il fatto che ogni stop sulla scala dell'apertura corrisponde al doppio o alla metà della luce rispetto al valore precedente o successivo. L'esposizione può essere fatta anche tramite un esposimetro esterno in modalità a luce incidente in cui la luce colpisce il bulbo dell'esposimetro che legge la quantità di luce e fornisce il valore di riferimento. Bisogna fare dei test per verificare che i valori letti dall'esposimetro corrispondano a quelli della nostra camera. Uno dei due potrebbe anche avere delle tarature non corrette. Ci sono casi particolari poi in cui l'esposizione va tarata in base al profilo che stiamo utilizzando su una determinata camera. Nel caso per esempio della ripresa in formato logarittmico S-Log di Sony è buona norma esporre di 1.5 stop sopra l'esposizione corretta per ottenere i migliori risultati in fase di color correction e color grading. Non sempre l'esposimetro del camera ci fornisce un'indicazione accurata per la nostra ripresa. In questi casi ci sono strumenti come i false color, zebra che ci vengono in aiuto. Sono strumenti che ritroviamo su camere di fascia alta oppure sui monitor esterni da collegare alle nostre camere. Danno una rappresentazione esposimetrica più precisa e dettagliata di tutte le parti della scena ripresa permettendoci valutazioni precise ed eventuali correzioni. Ritroviamo questi strumenti anche su app come per esempio Filmic Pro su iPhone. Bene, mi auguro che abbiate trovato interessanti queste riflessioni e se volete altri approfondimenti su concetti base come questo fatemelo sapere. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!